E' ancora abbastanza recuperabile questa partita, si sveglia per una volta in un momento più brutto, tra i passi di 6-3-7-2, da 6 minuti e tutta la fine del resto e l'ultimo quarto. E' entrato in partita anche Basiro, e meno male, si sa che in questi minuti non si sta ricordando la sua camorosa, un pass che è durato veramente troppo tempo. Staticati giusto per Diamantini, Diamantini senza riandare dentro, non riesce a trovare il canetto, trova soltanto il pallo.